Ben trovati, eccoci ad un nuovo appuntamento del tutorial Price Action che spesso faccio nel fine settimana e vedo che è molto molto di vostro interesse, quindi continuerò e continuo a farne anche perché mi diverte, mi piace e mi allena, seppur io faccia trading reale da tantissimo tempo. Allora oggi ho preso il future del Nasdaq, quindi andremo su un indice americano molto molto conosciuto, molto tradato e penso anche che molti di voi abbiano già fatto operazioni su questo mercato, comunque lo seguono anche per il motivo che comunque è il paniere delle principali aziende tecnologiche USA, quindi interessante questa cosa. Allora io adesso cosa faccio? Come sempre vado un po' indietro nel tempo, cercherò di, non guardo quello che, no alert scusate, quello che ecco qua, dove andrò a mettere il mio, come dire, il mio replay, eccoci qua. Oggi però voglio fare una cosa un po' diversa, intanto dove siamo? 8 maggio 2020, quindi 4 anni fa voglio fare una cosa, invece di andare esclusivamente su weekly daily, voglio con voi fare weekly daily e poi andare su 4 ore. Potrei andare anche su 6 ore, però su TradingView come sapete preferisco il 4 ore, il 6 ore lo preferisco sulla mia piattaforma ProRealTime che ha un fuso orario insomma interessante perché praticamente va a prendere le sessioni europee, americana, soprattutto più che quella asiatica, in determinati orari e quindi mi piace vedere proprio come viene, come si viene a sviluppare, insomma evolvere il mercato in quella determinata fascia oraria. Però quindi il 4 ore del TradingView, che è questa piattaforma che utilizzo per fare questo tipo di esercizio, che è una piattaforma comunque fantastica da un punto di vista proprio di grafici, ecco ci permette comunque di farlo, quindi di fare col 4 ore. Quindi il 4 ore in questo caso è assolutamente come fuso orario buono su TradingView perché dà come orari 7, 11, 11, 15 e 15, 19, quindi questa cosa per me è interessante. Detto questo quindi che cosa farò? Rispetto alle altre volte andrò a prendere le conferme sul 4 ore, cosa che noi comunque facciamo spesso sulla nostra operatività, quindi questo è il weekly e andremo ovviamente a valutare, a avere un'idea di un piano weekly, ma poi andremo su daily e su daily cercheremo delle conferme a 4 ore. Ok? Ripeto, per andare un po' più in profondità anche nell'approccio perché spesso accade che attendiamo delle dinamiche di conferma, ovviamente in base un po' alla price action, però questa volta per fare questo tutorial e quindi trasmettervi della formazione vorrei fare così. Allora, andiamo a prendere intanto il weekly che qua vediamo che stiamo vicino a massimi storici, vado a segnare due livelli per avere ovviamente contezza di dove siamo, ok, questo è l'altro livello, se non sbaglio sì, dopo di che abbiamo delle zone che però poi non ha sentito, ha sentito molto poco qua sotto. C'è tutta quest'area che ha fatto un po' da supporto, però sinceramente vedo che al momento non l'ha sentito tantissimo, quindi preferisco avere due zone chiare che sono queste due. Settimana scorsa il mercato ha fatto una settimana incredibile, questa è la settimana appena passata, doppio minimo air close, è in rally, la dinamica è molto bullish, è molto molto rialzista, quindi direi che l'idea è quella di andare alla ricerca, per modo di dire, di trigger long. Quindi questo è il daily, adesso andiamo e vediamo un po' che succede. Allora, partirei dal... Partirei dal... potrei partire dal quattro ore per vedere come si sviluppa già il lunedì, però siccome già siamo un po' lontanucci, no, andiamo sul daily, vediamo lunedì e poi decidiamo. Allora, lunedì è questo. Fa questo. Ha senso andare sul quattro ore? Potrebbe aver senso, nel senso che se dovesse fare un ritracciamento ci può stare. Io preferisco però, visto che l'ultimo trigger, vero, è qua, preferisco attendere un martedì. Oh, bene. Avendo una view long, allora a quel punto io da mercoledì posso anche valutare il quattro ore. Quindi vado sul quattro ore, eccolo qua, e qui vedete, vediamo la candela. Quindi vediamo un po' come si sviluppa le quattro ore. Bene. Questa è la notte e questa è la notte... Tutte... queste sono le due barre della notte, quindi questa è quella che va a finire alle sette. Praticamente le quattro sarebbero le tre, quattro, cinque, sei, sette, conclude alle sette. Vediamo un po'. Questa è la candela che va dalle sette alle undici. Quindi la mia idea è quella di un long, ovviamente, ma che al momento non c'è. E questa è quella che va dalle undici alle quindici, che fa questa tail. Però direi che, insomma, non ci sono cose. E qui c'è un bellissimo short dalle diciassette. Scusate, dalle quindici alle diciannove, che è un segnale assolutamente di possibile anche storno short. Quindi prendiamo l'ultima candela, la sesta, delle quattro ore, e continua così. Quindi... E riprende. Quindi andiamo sul daily, vediamo come chiude la candela daily. Eccola qui. Vedete, siamo in ritracciamento. Quindi questa zona, diciamo, che passa per di qua. È un'area dove, o su daily, o su quattro ore, se ci dovesse essere una conferma long, è sicuramente interessante. Quindi anche qui valuterei dei long. Ok? Allora, andiamo sempre a vedere come si sviluppa il quattro ore. Quindi durante la notte le prime due candele le facciamo un po' andare avanti. Tac. Queste sono le due candele della notte. Quella adesso che vi faccio vedere è quella riferita tra le sette e le undici. C'è un po' di recupero. Non ci sono nessun tipo di trigger. Arriviamo ancora da questo sell-off. Sul daily questa zona è una zona papabile per un long. L'abbiamo visto. Viene giù ancora. Quindi conferma la dinamica short. Questo è la candela dalle undici alle quindici. Vediamo dalle quindici alle diciannove se c'è qualche situazione. Recupero magari? Recupero, falsettura dei minimi. Però vediamo un po' come chiude la giornata. Potrebbe essere buono. Molto bello. Molto bello questo recupero a quattro ore di questi minimi. Perché? Perché se adesso noi andiamo sul daily, probabilmente vedrete la dottura del minimo precedente e il recupero. Tipo un FTV. Andiamo a vedere se è proprio così. È proprio un FTV. Eccola qua. Vedete? Alla fine il piccolo ci mostra nel dettaglio quello che poi succede sul grande. È normale, no? Questo è quello che ovviamente è come si forma qualsiasi cosa. Noi prima di essere grandi siamo piccoli, c'è qualsiasi cosa. Quindi il mercato ovviamente ci mostra nel dettaglio nel piccolo poi il grande. Questa è una bellissima, bellissima. FTV Pinbar in linea tra l'altro con la mia, come dire, con il mio piano long e quindi assolutamente interessante questa cosa. Eravamo partiti da qui che era venerdì, quindi abbiamo questo che è giovedì. Quindi, allora, io potrei già entrare long qui sopra con uno stop ampio, però in questo tutorial, ripeto, voglio andare a lavorare più su le dinamiche a quattro ore, ovviamente in linea con la nostra struttura. Quindi ci guardiamo e ci soffermiamo su questo, questa volta, e quindi andiamo sul, andiamo al venerdì sempre su quattro ore, guardiamo durante la notte che succede. Ovviamente vado un po' più veloce che durante la notte io personalmente dormo e quindi la notte ovviamente europea e quindi non faccio nulla, ovviamente. Bene, durante la notte consolidamento sopra, quindi c'è consolidamento in alto, è stata anche rotta la FTV durante la notte, però sapete che durante la notte è meglio sempre stare un po' tranquilli. Aumento ancora e rottura tra le 7 e le 11, quindi mercato che da qui potrebbe fare un ritracciamento, c'è stato un ritracciamento. Interessante questa tale, questa tale fatta tra le 13 e le 15, vediamo se tra le 15 e le 17, bam, fa questo. Se fa questo questa dinamica, ovviamente è venerdì, quindi non vado a tradare direttamente venerdì, ma potrei tradare lunedì, ok? Potrei fare questo, potrebbe diventare assolutamente molto interessante. Te metto qui la pennina così ce l'abbiamo, quindi vediamo un po' nel pomeriggio che succede. Inside, interessante perché vedete c'è stato questa tale, poi ulteriore tale, senza mai rompere il minimo, recupero. Quindi interessante, vediamo l'ultima barra della... rompe pure, quindi chiude così. Il daily chiude così. Weekly, vediamo come chiude. Chiude interessante, chiude per un allungo verso questa zona che diventa la zona di calamita. E quindi l'idea è quella poi delle prossime giornate di andare a impostarci con un long, in questo caso molto in linea, daily e quattro ore, vedete? Molto bello. Allora io sono a lunedì notte, cioè domenica notte, tra domenica e lunedì, non ho ovviamente impiantato l'ordine, faccio sempre l'esempio come se fosse realmente la situazione che io sto vivendo. Quindi lascio andare le prime due candele notturne, ecco qua, e mi trovo la mattina leggermente sopra a quello che era il prezzo precedente e quindi adesso l'idea è quella di poter entrare, vediamo, su quattro ore durante la giornata che succede. Questo è un lunedì dalle 7 alle 11, questo è 11.15, è salito pesantemente sopra i massimi, ma va bene, e questo è 15.17. Quindi al momento non ho avuto conferme, diciamo, veramente, se non questa dinamica insight, che però è stata fatta durante il pomeriggio tardo del venerdì, se fosse stato, vi assicuro, in un altro momento della settimana, qui era un long sicuro su questi livelli. Però siccome è stato fatto in quel modo lì, cioè in quel momento, io voglio essere trasparente, non avrei mai piantato l'ordine a quell'ora, ok? Quindi abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado a prendere il daily, vediamo un po' come ha chiuso, quindi chiude molto bene, posso ancora accettare delle conferme su quattro ore, perché comunque è appena partito il movimento, posso vedere se swing e se crea la conferma, andiamo a vedere sempre su quattro ore. Questo è un abbassamento di vola durante la notte, pin bar sui massimi che può portare a un ritracciamento, questo avviene tra le 7 e le 11, quindi la mattina sessione europea. Vediamo dalle 11 alle 15. Molto interessante questo, questo molto interessante, questa potrebbe diventare una conferma long per andare obiettivo qui. Perché? Perché il fatto che si sia formato questo e qui non continui, ma anzi continui verso l'alto, dopo aver rotto al ribasso, questo è un FTW, una delle mie strategie, ci può permettere di fare un trade verso l'alto. Allora, ci metto un ordine, metto un ordine qui sopra, metto uno stop qui sotto, metto un target qui sopra, e vado a mettere, vediamo un po' quanto è lo stop, 4,90, quindi metto un euro a punto, un euro a punto, quindi 4,90 stop loss, e abbiamo detto, adesso ci faccio anche la cosa così lo vediamo fatto bene, 2,41, 2,41 target, allora senza fare così, che poi si capisce niente, mettiamolo proprio così. Ok? La mia entry arriva se rompe, quindi se adesso viene giù non entro, se rompe, mi tengo uno stop qui perché? Perché nel caso faccia questo, potrebbe fare ancora questo, ok? Per il tipo di dinamica, ma siccome c'è questa, potrebbe essere esplosivo. Allora faccio questa determinata scelta, conferma 4 ore, vediamo. questo è 11,15, vengo eseguito bene, quindi quello che pensavo che questo era solo un consolidamento e questa FTV stia portando è buono. Stiamo sempre qui, un movimento short, pesante, quindi questo è l'ultimo della giornata, vediamo cosa succede, ecco succede questa, che è una classica barretta di presa a profitto, però benissimo, vediamo un po' cosa succede poi, quindi rimango long, sempre nell'ottica di osservare le conferme a 4 ore, potrei anche incrementare, facciamo esempio che io su una situazione del genere, magari sarei entrato appunto con un euro a punto, quindi 490 euro di rischio, e potrei inserire un altro lotto in realtà, un altro contratto, tranquillamente. Questa è la notte che vede le due candele notturne, questa è quella delle ore 7,11 la mattina, quindi si continua a consolidare, si torna sopra, questa è quella delle 13,17, no delle 11,15 scusate, sbaglio sempre, 11,15, bene, vediamo se va a farsi il giretto, intanto sta andando verso, questa è quella delle 15,19, vediamo l'ultima, io rimango in posizione, non faccio nulla al momento, bene, questo è sempre 4 ore, il daily chiude molto bene, come un po' mi aspettavo, il fatto che questa era solo una piccola presa di profitto, e che possa andare verso quella zona, ok? Quindi rimango long, il 4 ore è assolutamente allineato, non faccio al momento spostamenti, ma nei primi adesso qui, questo è mercoledì, nelle prime ore potrei spostare lo stop a rischio bassissimo. Questo cos'è? Sempre la notte, vediamo un po', la notte ritraccia un pelo, vediamo dalle 7 alle 11, ritracciamo nuovamente, 11,15, eccolo qua, questo volevo vedere, quindi siccome riparte, mi metto così, quindi sposto il mio stop e lo rimpicciolisco pesantemente, portandolo a, a livello di punti, 187 punti rispetto all'inizio, contro i 242 che poi mi potrei andare a prendere. In questo caso potrei addirittura mettere un ulteriore ordine, guardate, compro ulteriormente se rompe questa power, scusate, quindi compro se rompe questa power e mi metto sempre uno stop qui, ok? Quindi se sono entrato con un contratto, entro con due contratti, però ovviamente lo stop adesso è qua, perché nel primo il mio stop era molto ampio e quindi mi permetteva di, come dire, di lavorare anche un incremento, senza per questo rischiare molto di più. Ci siamo? È chiaro questo? Bene, quindi se vado incremento e porto a casa sempre il target, sempre sullo stesso livello nel caso, quindi 242 punti e mezzo con un contratto, facciamo esempio, facciamo esempio un euro per punto, così siamo posti, altri 112,50 euro, un altro euro per punto, qui ne avrei 187 più 3,14, quindi vedete che 3,14 più 187, 200, fate conto, sono 500 euro, all'inizio avevo rischiato 500 euro, quindi più o meno siamo simili come rischio iniziale, ma lo stop è minore. Ovviamente la seconda posizione entrerebbe solo, ok? Questo dovrebbe essere importante da capire, entrerebbe solo sulla rottura del massimo, cioè se adesso scende, io l'incremento non lo faccio, non mi viene eseguito. Se invece mi esegue, vado e cerco il target. Vediamo, siamo dalle 11 alle 15. Perfetto, facendo così, non sono entrato, il mio ordine pendente non è entrato, quindi tolgo l'ordine, mantengo però il mio rischio, così, mantengo il mio stop com'è. Questo è 15,19. Ritorniamo a prezzo di carico leggermente sotto, vediamo come chiude. Ecco, questa chiusura, un po' più bruttina, potrebbe portare un po' giù, però sto dentro e valuto poi. Tanto il mio rischio adesso è molto limitato, perché stiamo parlando di dai 490 iniziali ai 500, sono 187, mantengo la mia idea. Sempre 4 ore. Questa è la notte, vediamo un po' che succede. Questa volta mi crea il problema, nel senso che mi viene giù. Vediamo. Mi sa che veniamo presi dallo stop, però non è detto. Questa è 7,11. Qui c'è un bel pavimentino, vediamo se lo tiene. Ah, lo tiene. Lo tiene, molto bene. Quindi il mio stop, sempre molto comunque con condizione di causa e non classico, mi ha permesso al momento di rimanere dentro, di essere ancora break even, e vi dico la verità, magari, di vedere veramente un movimento rialzista, perché questa qui è una bella falsa rottura. Comunque, vediamo. Questo è 11.15, vediamo se alle 15.17 spara, orario americano. Tiene. Vediamo se in serata va sopra. No, più di tanto non fa. Sì, vabbè, si mantiene qua. Quindi molto bene. Vediamo il daily. Il daily crea una FTV ulteriore, mini pin, che può portare nuovamente su. Quindi tutto quanto ci sta indicando la possibilità di un movimento rialzista, vi dico, ragazzi, io personalmente, questo è un tutorial dedicato al quattro ore, quindi all'entrata confermativa, perché non l'avevo ancora fatto e mi piaceva farlo. Però, se io avessi visto questo con la dynamic, cioè se io volevo entrare qua, ovviamente in questo caso il quattro ore magari non sarebbe servito. Io potevo entrare direttamente qui. Non so se mi spiego. Poi io sono entrato qui perché quella dinamica ha quattro ore che stiamo cercando e quindi vado a livello didattico a spiegarvi meglio la faccenda. Però, idealmente, questa è la cosa acquistabile, no? Bene. Allora, andiamo a vedere poi cosa succede. Eccolo qua. Tac. Durante la notte, le quattro ore della notte sono queste. Ritorno, ricordo sempre che io sono long da qui, e quindi allungo, tanto per farvi capire. Facciamo così perché sennò è bruttino da vedere. E vediamo se andiamo su. Ulteriore barra rialzista che va sui massimi precedenti. Se mi rompe, ragazzi, se mi rompe qui, sapete che faccio? Sposto il mio stop a break even e poi free risk e vediamo se andiamo a target. Sì, ha rotto. Questa è la candela dalle 11 alle 13, quindi free risk. Tac. In realtà mi metterei leggermente così, quindi non so se si possa, forse sì. Sì. Mi metto il leggero gain, 17 punti e mezzo di gain, e vediamo che cosa fa. Non fa più di tanto nel primo pomeriggio. Continua la fase long. Ah, questa era mezzanotte però. Vabbè, tanto il daily sicuramente era bullish, quindi vediamo anche durante la notte questo cosa sta facendo. Spettacolo. Allora, una cosa del genere, ragazzi, io ancora faccio così. Vado ad incassare 96 punti nel caso in cui questo crolla di brutto perché stiamo vicino al target, quindi la mia entrata ovviamente è qui dove vedete la linea blu, dove c'è la parte rossa dove inizia, cioè questa è la mia entry. Questo è il mio stop profit. Vediamo se va a target, però questa me la incasso. Se crolla, incasso. Ok? Quindi vediamo la mattina, dalle 7 alle 11. Niente. Eccolo là. Sono andato a target profit, diciamo, a stop profit. 96 punti. Bene, me l'incasso. E adesso valutiamo ulteriori dinamiche. Ok? Sempre nell'idea di aver fatto un qualcosa legato all'idea 4 ore. Questo anche era molto bello, questo aumento di vola. Comunque molto interessante. Bene, quindi stiamo a 12, concludiamo la giornata. 17. Ok. Questa è l'ultima candela del giorno, ritracciamento sul grafico a 4 ore. Andiamo a vedere sul daily. eh, una bella pinnazza qui, il martedì, una bella pinnazza, che potrebbe portare a una sorta di lieve ritracciamento al momento, perché la struttura è ancora assolutamente long. anche perché poi noi questo era venerdì e questo è martedì, non so il motivo. Non abbiamo neanche guardato la fine della settimana, il problema è che se la guardo adesso diventa un problema. Comunque sarà ancora bullish, vicino a dei livelli chiave, quindi di base il mio piano potrebbe essere sia long che short, in questo caso, ve lo dico. e quindi vado a vedere 4 ore sia in ottica long che in ottica short. Vediamo un po'. Durante la notte si creano i presupposti per una fine di ritracciamento. Mattina presto, metà mattina, cioè 11-15, questo grande ribassone. questo potrebbe essere confermativo di un movimento leggermente short. Guardate qui. E poi viene giù un po'. Qui potrebbe fare e poi magari ripartire, no? Solo che non c'è spazio, quindi preferisco attendere. Questo è alle ore 16, quindi questo è 15-19. Questo è da comprare. Questo è da comprare. Allora, aspetto la chiusura della giornata, ragazzi. Vediamo. Potevo comprare già qui, eh. solo che solitamente io verso sera aspetto la mattina dopo. Questa è una conferma long perché abbiamo un daily long. Guardate un po'. Potrebbe sparare. Quindi, in questo caso adesso, siccome era sera, difficilmente metto l'ordine alle 19, posso chiudere qualche trade, ma difficilmente metto dei trade alle 7 di sera. Solitamente uso la mattina, primo pomeriggio per inserire i trade, anche fino alle 5, 5 e mezza, 6, ma alle 7, quando bene o male, chiude anche le 6 ore di ProRealTime e alla fine è la chiusura della giornata e posso aspettare la giornata successiva solitamente. Attendo la giornata successiva. Ok? Ok. Quindi, abbiamo detto che queste sono le 20, quindi il daily è così. Andiamo avanti. Questa è la sera, la notte, perfetto. Adesso vediamo che succede perché l'idea è quella di poter provare a fare un trade long. Vediamo. Eccolo lì. Eccolo lì. Allora, visto che mi fa questo, io entro long, tengo una situazione di questo tipo. qua stiamo su dei livelli nuovi, no? Perché questo è il massimo, ma potrebbe anche essere che questo, ma guardate qua, mi metto là sopra proprio. Mi metto sui massimi questi qua. Ok? Mi metto proprio lì. Perfetto. Guardate, faccio un trade di questo tipo, quindi entro a mercato esclusivamente se mi brecca sopra. Quindi, questa è la candela dalle 11 alle 15. Se durante il pomeriggio mi rompe sopra, io entrerò long. Sono entrato long. Sono entrato long. Mercato bello, bello potente. Aiuto qua, mi si è aperta la posizione che ho sulla ProRealTime con l'oro. Un attimo che tiro via. Perfetto. Scusate, ma ho anche le mie posizioni dall'altra parte. Ok. Tac e tac. Quindi, abbiamo detto bene, 15-19. recupero un po' pesante. Alle 20, quindi vediamo la chiusura daily. Chiusura daily assolutamente in linea. Abbiamo sempre 4 ore, sempre long. La notte. Tutto abbastanza in linea. Vediamo la mattina dalle 7 alle 11. Primissima mattina. Si ritraccia un po'. Vediamo dalle 11 alle 15 pre-apertura americana e poi l'America. Vediamo. Tiene un po' i minimi. Vedete come tiene i minimi qua? Viene comprato sui minimi. L'idea è quella che, bam, possa sparare. Vediamo se lo fa. Sparare ha sparato. Quindi, diventa interessante adesso perché il mio rischio non è più lì. Mi metto molto a basso rischio adesso. Quindi, se prima avevo, sapete, io inizio sempre con un rischio alto, spesso anche più alto del possibile preventivo rendimento, target, ma perché so che poi si gestisce, no? Quindi adesso il mio stop è di 127 punti contro un possibile target diciamo di 276. Vediamo un po'. Questo è la fine della giornata? Sì. Quindi andiamo sul daily. spaventosamente bello per un possibile boom movimento su questi massimi. Vediti? Vedi qua? Bam. E quindi vediamo se lo fa. Ovviamente adesso ho già protetto la mia posizione con un rischio minore, cosa molto importante. Io arrivo da una posizione in profitto di circa 100 punti prima, poco meno di 100 punti. Quindi devo sempre stare anche molto attento a non farmi prendere dall'euforia perché sono bravo e quindi ho fatto guadagno e quindi sono bravo. No. manie di onnipotenza. È questo ego che vi può prendere quando fate trading. Dovete cercare assolutamente di gestirlo, attutirlo, attenuarlo. Ok? Ogni posizione è una posizione a sé stante. Allora, andiamo a vedere. Mmm, apertura bruttina. Però, però poi riprende. Si ricorda che questo qui è il future, quindi comunque ha una chiusura. Andiamo a vedere. bene. Avete visto? Non mi sono messo a breakeven. Mi sono messo a rischio qui perché possono succedere queste cose. Allora, adesso, siccome sono vicino a questi massimi, o crolla e vado a uno stop ridotto, oppure, siccome ho questi, se rompe qui, break even. Adesso che lui ha fatto questo, ha ritestato, se rompe, non ci deve più tornare. Poi qua magari posso anche uscire, però prima del target, se mi fa una price action ribassista. Però questa è una dinamica interessante. Andiamo a vedere. Questa è la notte, vediamo la mattina. Non vuole rompere? Vediamo. Questo è la candela dalle 11 alle 15. Vediamo se durante il pomeriggio del Nasdaq succede. Eh, eh, adesso, visto che mi rompe i massimi, io faccio questo. Tac. Mi metto in leggero, in leggero gain. 9,75 punti, 9 punti. E vediamo dove va. Quindi sono già a rischio zero. 20. Vediamo come chiude il mercato. Interessante, interessante. Sembra voler andare assolutamente verso l'area target. Vediamo. vediamo la notte. Ok, si mantiene forte, diciamo. Vediamo la mattina dalle 7 alle 11. Va sull'area, va sull'area 9,640 dove avevo il primo livello. A questo punto, guardate, faccio ancora, stringo ancora, vado a mettermi a 73 punti di profitto. Qui potrebbe fare il movimento ritracciante, però potrebbe, no? anche stop presi, potrebbe avere un po' di volatilità e andarci a prendere i 203 punti di Nasdaq. Vediamo. Avevo in mente. Vediamo. Eh sì, questa volta ho voluto troppo. Il mercato riprende. Adesso lo andiamo a vedere. Intanto qui ho preso profitto, ok? Allora, prendo questi 73 punti di profitto e sapete cosa faccio? Provo a fare questo. Allora, io avevo, mi rimetto long qui, faccio vedere, e mi metto sempre nel target che avevamo là sopra. Eccolo là. E mi metto questi punti di target 131, mi metto inizialmente così perché sapete che io poi gestisco. Vediamo che succede. se rompe entro ancora. Ha rotto e entro ancora. Questo è sempre un 4 ore, sempre nella valutazione di 3 da 4 ore in linea con la struttura. Il daily sicuramente sta chiamando, ecco qui bisogna stare un po' attenti però vedete che c'è queste chiusure? Quindi aspetta che mi metto bene sulle chiusure daily. Eccolo là. 4 ore, quindi abbiamo 123 punti di profitto possibile. Adesso se rompe questi massimi mi andrò già a gestire lo stop. Stiamo ovviamente di notte adesso un attimo. Ok, le prime due candele notturne guardate rompono i massimi quindi ho la mattina appena mi sveglio tac mi metto in rischio bassissimo la mattina la mattina alle 8 quindi dalle 7 ovviamente sto lavorando vedete in maniera leggermente diversa che con il daily week e basta è weekly daily 4 ore quindi devo essere anche un po' più attento nella gestione a questo punto rompe nuovamente i massimi tra le 7 e le 11 vediamo dalle 11 alle dalle 11 alle 15 bellissimo guardate rifa nuovi minimi va a ritestare il livello di massimo mi porto a profitto leggero 21 punti vediamo se ce ne da 100 non vengo eseguito non mi prende vedete assolutamente no anzi c'è anche spazio direi vediamo se fa la scalata su e si ragazzi qui si potrebbe uscire direttamente a mercato perché questa che rientra sul mio possibile target però insomma cosa dite faccio così guardate sempre nella questione del 4 ore mi metto proprio sotto i minimi perché se crea lo swing potrebbe creare giù quindi mi incasso sempre 48 punti e vediamo se ovviamente io adesso sto sbagliando quando vi ho detto 102 in realtà non sono 102 perché io devo prendere da qua quindi in realtà i miei punti sono 124 quello che andrei a prendere prima ne ho presi di più in effetti perché poi viene da contare da così ma così in realtà è perché io vado a profitto in realtà il mio entry è qui prima erano di più in effetti avevo contato sbagliato vabbè comunque tanto per vedete questa è mezzanotte e vediamo se durante la notte mi prende facile quindi incasso intanto metto all'incasso da qui a qui altri 48 punti vedete che in questo caso ho gestito sempre con un trailing stop che inizialmente lo stop è abbastanza largo poi quando si inizia a muovere poi qui io non so mai che livelli prendo ragazzi nel nel mercato quindi in questo caso siamo vicini a un massimo storico ovviamente devo stare attento poi lavorando su un quattro ore in questo caso cioè facendo l'analisi daily ma poi conferma quattro ore ho dovuto essere molto attento perché sui massimi io posso avere un declino forte però sono riuscito a prendermi tre quattro trade come avete visto con l'analisi weekly di riferimento il daily come diciamo dinamica principale e il quattro ore come entry in questo in questo caso non è stato non è stato semplicissimo perché eravamo vicini ai massimi però devo dire che poi alla fine abbiamo fatto un buon lavoro bene io direi che per oggi è tutto questo è un tutorial un po' diverso se vi piace anche che io faccio degli approfondimenti anche sulle conferme a quattro ore o a sei ore dal daily weekly come questa volta e non solo weekly daily scrivetelo nei commenti perché può diventare interessante sempre motivo di allenamento e di continua reiterazione di determinate dinamiche e mi sembra che sia tutto per il momento quindi non vi rubo più tempo ma sono sicuro che vi siate divertiti e vi siete divertiti e abbiate avuto un beneficio nel seguire questo tutorial vi chiedo di lasciare un like un mi piace di seguire questo canale se ancora non lo seguite e di scrivermi qui nei commenti come come la pensate e cosa volete magari che posso andare a fare come tutorial ovviamente sempre in linea con il metodo il metodo price action che noi abbiamo vi ricordo che se andate sul sito yearforex trovate il link al mio libro editato da trading library uscito in questi giorni e anche la possibilità di partecipare a metà giugno tra un po' dovremo chiudere le iscrizioni per ovvi motivi perché l'evento è dal vivo con l'evento sulla gestione emotiva del trader un corso al vivo di tre giorni a Bologna quindi se volete potete partecipare basta che andate sul sito www.yearforex.com e trovate i banner proprio in home page io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao